Questa settimana, lo sapete, è iniziata la cosiddetta fase 2 che, soprattutto la nostra regione, corrisponde anche alla ripresa dell'attività motoria. Ne parliamo con il presidente del WISP, Massimo Verducci, che è collegato in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, WISP, l'avete nella sligla, sport per tutti, è nell'acronimo appunto del vostro ente. La ripresa però può anche portare qualche problema per alcune categorie, immagino soprattutto gli anziani. Certo, gli anziani e non solo. In questa fase il problema che ci stiamo ponendo è quello della ripresa e del sostegno psico-fisico delle persone. Quindi stiamo mettendo in campo delle attività di sostegno da remoto, anche attraverso telefonate, in particolare agli anziani, come diceva lei, per motivarli a fare attività a casa. Stiamo anche pensando ad altre attività da fare nei quartieri, coinvolgendo i nostri operatori nei cortili, coinvolgendo tutti dai propri balconi a seguire l'attività fisica adattata, quindi rendendo l'attività un po' più sociale. Parliamo di bicicletta, il lockdown vi ha costretto a rinviare bici in città, però avete in mente qualcosa soprattutto per l'uso corretto della bici, giusto? Sì, per l'uso corretto della bici abbiamo pensato una lettera insieme con altre associazioni, Legambiente e FIAB, per adattare marciapiedi e magari parte della sede stradale allargando i percorsi per le biciclette e per i pedoni. Buona sarebbe anche l'idea quella di istituire le zone a 30 km, come mi pare di aver sentito su alcuni organi di stampa. Questo consentirebbe una mobilità più dolce in questa fase di ripresa. E poi pensavate anche a qualche aspetto educativo sull'uso della bici, magari promuovere un corso, qualche iniziativa di formazione? Sì, stiamo pensando delle attività formative per piccoli gruppi, magari attività serali per sensibilizzare in particolare i ciclisti sulla visibilità del ciclista su strada, quindi all'uso corretto per esempio delle luci, all'uso corretto del campanello, all'uso dei catari frangenti, di gilet che rendano più visibile il ciclista sia su strada che magari su percorsi condivisi con i pedoni. Questo potrebbe essere orientato in una prima fase all'aperto e poi anche nelle scuole. Benissimo, molte grazie a Massimo Verducci per essere stato con noi questa mattina e buona giornata. Grazie a voi!